Preparatevi signori perché questa potrebbe essere una vettura che è davvero rivoluzionare al mercato. Perché? Perché in realtà ultimamente abbiamo visto vetture molto costose con un'asticella del prezzo che continua a salire. Salirà anche in questo caso, ma non tantissimo, soprattutto in questo caso però salgono i contenuti. Quindi abbiamo a disposizione una nuova generazione della Duster che si rinnova completamente. Si rinnova completamente grazie all'adozione della nuova piattaforma, la CMFB, che abbiamo già visto sotto diversi modelli del gruppo Renault. Ma in questo caso abbiamo a nostra disposizione dei contenuti che poi sono fedeli alla filosofia Dacia. Fedeli in che senso? Beh, sicuramente il fatto di avere appunto una soglia d'ingresso dall'allestimento base inferiore ai 20.000 euro. Questo è l'obiettivo che si sono dati in Dacia, appunto usciranno poi più avanti i listini completi. Ma è già stato insomma promesso questo prezzo nei mercati principali, quando meno europei, al di sotto dei 20.000 euro per l'allestimento d'ingresso. Ma in questo caso abbiamo comunque la filosofia Dacia sempre presente. Quindi estremamente solida, estremamente compatta anche, ma soprattutto con dei contenuti, anche in termini di abitabilità e di spazio, che sono da riferimento assoluto. Questa Dacia Duster mi piace tantissimo per quel che riguarda l'estetica, perché riprende un po' quegli elementi tipici del design delle ultime Dacia. Mi riferisco chiaramente all'elemento AY che ritroviamo nella fanereria posteriore. Tra l'altro guardate anche qui la scritta Dacia, un piccolo dettaglietto in più di stile che gioca proprio su un brand che negli anni ha raccolto un grandissimo successo. E poi nella parte posteriore troviamo la scritta Dacia, anche qui elemento che di recente abbiamo visto proprio sulle auto del marchio del gruppo Renault. E poi guardate cosa compare qua, Duster Hybrid. Ebbene sì, adesso ci arriviamo. Approfitto di essere qua dietro anche per raccontarvi di quella che è poi la resa del bagagliaio. Un bagagliaio che aumenta nella sua capacità, perché siamo adesso a 475 litri di capacità minima. Ovviamente questo dato poi verrà verificato dal centro prove. Guardate tra l'altro anche la possibilità di regolarlo in diverse configurazioni per poter gestire dei carichi più piccoli o più grandi, oppure andarlo a posizionare nel doppio fondo per avere ulteriore spazio in altezza. Quindi insomma 475 litri circa in realtà sui 445 attuali, anche qui un buon guadagno di spazio. E poi abbiamo invece all'anteriore uno spazio ulteriore per i passeggeri davanti, soprattutto in larghezza. La vettura rimane la stessa in termini di dimensioni, questo non ve l'ho ancora detto. 4 metri e 34 di lunghezza, quindi rimane invariata rispetto a prima con un'altezza che è di 4 cm inferiore. Quindi questo dà ovviamente maggiore presenza su strada, vedete proprio anche lateralmente è più sportiva, è inevitabile anche dato dal fatto di avere questi passaruota squadrati. Sono molto moderni, li abbiamo già visti anche su altri modelli lanciati più o meno di recente, ma comunque la resa estetica anche dalla vettura vista lateralmente è veramente interessante secondo me. Anche perché poi ripeto mantiene la stessa filosofia di design, ma comunque adeguandola proprio a un modello che adesso appare molto più alto come posizionamento di prezzo. Quindi non necessariamente una vettura come era in passato compatta ma anche un po' grezza in alcune finiture esterne, ma in realtà guadagno un pochettino di più anche da questo senso. Come dicevo, ulteriore spazio in larghezza per i passeggeri anteriori e ulteriore spazio anche per le ginocchia dei passeggeri posteriori. Ora davanti è regolato più o meno sulla mia altezza, guardate quanto spazio ho a disposizione per le gambe, veramente tanto e guardate quanto ne ho anche per la testa. Potrei tranquillamente viaggiare qua dentro per tanto senza di fatto sentirmi costretto. Vi faccio vedere un altro elemento nuovo di questa Duster, ossia questa piccola clipettina, la vedete? Si chiama U-Clip, questo è uno dei diversi elementi, tanti elementi che sono posizionati all'interno dell'abitacolo, ve lo faccio vedere anche dopo davanti. Permette comunque di configurare l'abitacolo con degli accessori in più che possono essere proprio tipici di una vettura che punta sulla praticità anche negli spazi e anche alla modularità degli spazi. Guardate anche in questo caso, lo troviamo qua e lo troviamo anche qui. In questo caso a cosa potrebbe servire? Beh, per posizionare un accessorio che è una torcia che viene posizionato qua a clip e può illuminare il vano bagagli. Un'illuminazione la troviamo comunque qua, ma se serve illuminazione supplementare questo può essere estremamente utile. E poi guardate qua, lo abbiamo anche qua sopra, questo perché proprio possiamo posizionare una torcia qui e questo mi va ad illuminare tutta la zona retrostante. Ipotizziamo magari doversi cambiare delle scarpe, noi siamo tornati dalla nostra camminata in montagna ad esempio, ecco che questo può essere estremamente utile. Bene, vi faccio vedere ora la parte anteriore, una parte anteriore che ovviamente si arricchisce in termini tecnologici con l'adozione proprio di un nuovo schermo del sistema di infotainment che troviamo posizionato ovviamente in plancia, rivolto leggermente verso il conducente. Abbiamo anche qui tutte le varie funzionalità tipiche dei sistemi moderni, quindi abbiamo Apple CarPlay, Android Auto, Wireless. È disponibile dal secondo allestimento in su e poi qui di fianco troviamo, quello che vi dicevo appunto, un altro U-Clip messo qua sopra, lo vedete posizionato qua. Questo serve appunto per poter collegare questo accessorio che è un supporto per lo smartphone disponibile sia così, quindi senza ricarica di induzione oppure con una ricarica di induzione. Poi volendo si può anche attaccare lo smartphone, qualora scegliete questo accessorio, nelle prese posizionate qua sotto. E poi abbiamo il selettore delle modalità di guida del cambio, questo poi adesso ci arriviamo proprio a raccontarvi anche questa caratterizzazione. Adesso vado a riposizionarlo, vediamo se ce la faccio, sì benissimo, ma è anche abbastanza facile e comodo. E poi abbiamo anche una strumentazione digitale, davanti a me tante più informazioni rispetto a prima. E tra l'altro, altra caratteristica, sapete che gli ADAS sono sempre più presenti e soprattutto obbligatori, interessante questo tasto che permette di richiamare le modalità chiamate, anzi la modalità chiamata safety, my safety scusate, quindi con tutte le impostazioni che voi avete scelto per poterle richiamare in un attimo oppure ancora per avere accesso alle varie impostazioni appunto dei sistemi che possono essere in frenata automatica d'emergenza, lettura dei cartelli stradali, quindi avviso se siete oltre il limite, mantenimento della corsia. Quindi potete poi attivarli, disattivarli eccetera. Piccolo break dall'esemplare grigio per farvi vedere questa, la configurazione che secondo me è anche quella meglio riuscita, almeno di quelle che ho avuto possibilità di vedere qui alla presentazione. Bianca con ovviamente tutte le protezioni in plastica grigia, con lo sparkle appunto che va a caratterizzare questi elementi di protezione della carrozzeria, ovviamente il passaruota ma anche il paraurti, come vedete si caratterizza proprio per questi elementi bianchi a vista. Un modo per renderlo più riconoscibile, questo materiale è stato proprio brevettato da Dacia per l'utilizzo sui suoi prodotti e prevede un utilizzo di circa un 20% di plastica riciclata, quindi non è riciclabile ma è proprio riciclata e questo è positivo. Speriamo che appunto diventi sempre più frequente e che si arrivi anche a quote ben superiori. Questo è l'esemplare con configurazione extreme, quindi quello un po' più ricco e guardate che particolarità estetiche, insomma secondo me si sposa molto bene, molto più rispetto alla grigia con le caratteristiche estetiche di quest'auto. E anche per come cambia la vettura in termini di come dire presenza su strada, questo colore secondo me è anche quello meglio riuscito, veramente molto accattivante, mi piace, riesce proprio ad enfatizzare ancora di più tutta la parte muscolare della carrozzeria, soprattutto nella parte posteriore. Ma anche vi faccio vedere questo spoilerino dietro che insomma caratterizza in modo più sportivo proprio la parte retrostante della vettura, veramente molto accattivante. Gli interni dell'extreme ovviamente sono caratterizzati da una selleria specifica, così molto più facile da lavare, un po' in similpelle se vogliamo, in realtà poi è più che altro una sorta di neoprene al tatto e appunto è più facile da lavare anche la parte di seduta, quindi molto molto più comodo. Chiaramente poi troviamo anche i tappetini tipici di questo allestimento, anche qui in gomma più facili da lavare che offrono un'ottima possibilità di resistere anche all'usura più dura. Vi faccio vedere invece di quella che è un'altra caratteristica appunto la motorizzazione, vi faccio notare una cosa, pistoncino, quindi non c'è la stecchina che tiene verso l'alto la copertura del vario motore, abbiamo tranquillamente la possibilità volendo anche di ispezionare il vano senza nessun tipo di problema. Ma il hybrid ma anche full hybrid volendo, full hybrid che si caratterizza di ovviamente 140 cavalli di potenza massima con una unione del motore a benzina 1.6 da circa una novantina di cavalli e quello elettrico da circa una cinquantina di cavalli, anche in questo caso l'abbiamo già scoperto in altre applicazioni. Qui appare su Duster per la prima volta, in passato l'abbiamo visto anche sulla Jogger. Ebbene una caratterizzazione anche a livello diciamo di motori che non è tipicamente Dacia in questo senso perché appunto compare l'ibrido per la seconda volta, quantomeno per la prima volta su Duster, ma abbiamo comunque una conferma e questa sì che è tipicamente Duster, ossia il fatto che avremo a disposizione anche il motore a GPL, un motore a GPL che promette oltre 1300 km di autonomia, quindi risparmio, quindi autonomia comunque con due serbatoi da 50 litri, uno posizionato sotto il piano di carico nel bagagliaio, quindi toroidale, per poter risparmiare litri e per poter avere a disposizione altri litri, per a questo punto risparmiare durante cose di gestione, incredibile. Un gioco di parole che non so come mi è uscito, ma mi è uscito alla fine, a questo punto voi fatemi sapere la vostra nei commenti, ditemi cosa ne pensate di questa nuova Dacia Duster e soprattutto tutti gli altri dettagli li trovate su 4ruote.it. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube e soprattutto seguiteci su tutti i nostri social perché ovviamente anche lì escono dei contenuti specifici. Alla prossima!